33 persone sono state arrestate dai carabinieri a organismi di polizia stranieri in diverse province italiane, tra cui Agrigento e Messina. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della DDA. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata la commissione di una serie di delitti in materia di giochi scommesse illegali, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro, provento di delitto in attività economiche, autoriciclaggio con l'aggravante per taluni di questi reati di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan dei casalesi. L'agrigentino coinvolto è Gino Vincenzo Danna, 55 anni di ribera. Danna è stato coinvolto nel 2018 nell'operazione Galassia, che ipotizza la mano delle organizzazioni criminali dietro il ricchissimo business delle scommesse online. Per questa vicenda la DDA di Reggio Calabria ha avanzato la richiesta di rinviaggiudizio nei suoi confronti lo scorso maggio. Contestualmente è stato eseguito sequestro preventivo di 11 siti internet e di società con sede legale a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, nonché di 3 milioni nei confronti di colui che è ritenuto il capo e promotore del sodalizio criminale. Gli introiti stimati dall'asset criminoso nel suo complesso sono stati quantificati nell'arco temporale di circa due anni, inoltre 5 miliardi di euro. Qualora i giochi fossero stati svolti in forma lecita, le entrate per l'erario sarebbero state di circa 500 milioni di euro.